Appassionati di calcio, buon anno, auguri, buon 2017 e ben ritrovati a questa nuova puntata della finestra sul campionato. Come di consueto è Dario Giuffrida ad analizzare con noi l'andamento del campionato di Serie A e iniziamo dal Napoli, un Napoli che al 95esimo coglie un successo insperato. Sì, insperato però ricercato fino all'ultimo secondo, prima si è complicata la vita, poi una volta ottenuto il pareggio ha creduto nella vittoria e l'ha ottenuta all'ultimo secondo, però credo meritata. Un Napoli quindi che inizia bene ma continua ad avere le solite lacune in difesa, specie quando una squadra come appunto la Sampdoria gioca a ritmi elevati. Sì, si ripropone un po' il problema di questo campionato, non si riesce a capire il perché determinate squadre quando scendono al San Paolo danno tutto, il massimo, giocano fino all'ultimo secondo con la bava alla bocca, poi magari quando varcono lo stadio di qualche altra squadra non voglio fare nomi. Io invece lo faccio, uno stadio torinese? Dai, non facciamo nomi, però si squagliano dopo dieci minuti. C'era la Sampdoria che pressava a tre quarti di campo sul portatore di palla con tre, quattro uomini dal primo all'ultimo minuto, quindi proprio per questo ritengo che il Napoli abbia fatto un'ottima impresa vincendo. Squadre come il Sassuolo, la Sampdoria, l'Atalanta, l'Udinese, quando incontrano Napoli, Milan, Roma danno l'anima. Quando incontro una squadra in colore e mi fermo qui invece sembrano scendere in campo con uno spirito di arrendevolezza. No, è proprio questo il problema secondo me di questi ultimi campionati, che ci siano state sempre delle società satellite, satellite che hanno avuto dei trattamenti di riguardo verso le grandi squadre, è sempre successo, però ultimamente si sta verificando una specie di squadre madri con squadre satellite che si sta un po' accentuando e questo non è un bene per il campionato. Io non vi vedo degli illeciti, attenzione, però se parliamo di sport, se parliamo di vittoria, beh una domanda nasce spontanea. Perché l'animus e spugnandi queste squadre l'hanno nei confronti soltanto di alcune, mentre quando si incontrano contro la solita boh? Questo, proprio ieri si vedeva come la Juve ha massacrato il Bologna in pochi minuti. Quel Bologna che prima della partita di Juventus aveva ben fatto. Sì, 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 ma è così come è stato un po' la Samp, molte altre squadre che quando incontrano squadre come il Napoli danno l'anima e non succede la stessa cosa, magari ti fanno riposare i migliori elementi, allora questo dovrebbe essere evitato sinceramente. Anche perché, voglio dire, poi alla fine la Juve non si capisce se è così forte in campionato, esce fuori dalle mura dell'Italia e di colpo trova grosse difficoltà e allora non si riesce a capire se questa Juve è fortissima oppure non lo so, cosa c'è di sotto. Una Juventus che, quanti scudetti ha Dario? 32? Ma non ricordo, sinceramente, ho perso il conto. Quante Champions? Ah, quelle poche. Spiegatemi voi perché questa squadra in Italia domina, è fuori... Ma va a finire che qualche querela me la becco se continuo, cambiamo argomento. Il Milan di Montella, dopo aver battuto la Juventus con un finale che ha ricordato un po' la finale di Champions League di Manchester con il rigore di Sheva nel 2003, il rigore di Pasalic nel 2016, ritrova bacca ma soprattutto trova tre punti preziosi verso quello che può essere un sogno europeo importante. Comunque una piccola cosa sulla Juve, non è una questione di querele o roba varia, si discute solo a livello sportivo come mai ci sia questo punto interrogativo che una squadra così forte asfalti il campionato, poi quando si confronta con le altre squadre fuori dal campionato italiano incontri serie di difficoltà. Tutto qui e questa è la domanda che ci poniamo. Riguardo il Milan bisogna dire che questo è il campionato dove la differenza la stanno facendo veramente gli allenatori. Montella è uno di questi che sta ottenendo veramente il massimo dalla propria squadra che onestamente non è a livello delle altre come organico, però sta lì e tra le prime continua a vincere e onestamente è merito di Montella che ha dato una quadratura a questa squadra e sta ottenendo, veramente li sta motivando e ottenendo il massimo. L'Inter, pazza Inter con Perisic, esce vittoriosa dallo stadio Dacia Arena di Udine, ma ecco l'Inter secondo te che potenziali ha e che tipo di squadra è? Perché poi è riuscita a battere l'Inter, la Juventus, però ecco al tempo stesso ogni tanto inciampa in partite in colori. Sì, però l'Inter è la dimostrazione di quello che stavo dicendo poco fa sulla differenza che fanno gli allenatori. Io sono convinto che se Pioli avesse avuto questa squadra dall'inizio del campionato a quest'ora era allo stesso livello di Milan, Napoli come punteggio, quindi questi 5-6 punti che ha in meno sono proprio la differenza tra un inizio con un certo allenatore e un inizio con Pioli che nel bene e nel male sta vincendo mi sembra da 4 partite consecutive, è riuscito a dare una quadratura anche lui alla squadra, a dare una personalità, a saper mettere i giocatori, motivarli e i risultati si stanno vedendo tutto qui. L'organico c'è, l'organico c'è. L'organico secondo me è secondo forse soltanto a quello della Juventus. Parliamo di Roma e Lazio, le romane continuano a stupire e soprattutto continuano a volare alto. Sì, ma in fondo questa settimana è stata la conferma, hanno vinto tutte le prime in classifica, le prime sette mi pare hanno vinto tutte quante e non vorrei essere ripetitivo, anche qui c'è la mano degli allenatori. Spalletti, da quando ha preso la Roma, le ha dato un'identità. Stessa cosa Inzaghi, neofita della panchina, però sta dimostrando di essere un buon allenatore, un ottimo allenatore, un motivatore dei calciatori e i risultati si stanno vedendo, anche se bisogna dire che non c'è paragone tra l'organico della Lazio e quello della Roma. Ok, grazie Dario per averci detto la tua. Grazie a voi e buon anno anche da parte mia. Di nuovo auguri e seguiteci su www.eltabloid.it. Alla prossima. Grazie a voi.